So pronto. Sei fresco. Come la rosa. Presentami un attimo, inizia il programma. A te c'è tutta la sigla, no? Poi c'è il colpo di gong, vai. Che tu dici? Signori e signori. No, signore, signore e signori. Non ci faccio che signore. Signore e signori, inizia il programma, tutti seduti. Ma il programma non mi piace. Ecco a voi, Gigi D'Agostino. Bravo. Grazie. Sì, bravo. Torna anche domani. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. È vero, è vero. E dai e che buzai. M2O, musica allo stato puro, se ripete è sicuro, se dico fermate. Fai un passo. Un altro passo, vai a destra, vai a sinistra, torni indietro e vai avanti, ma sta attento al convento. Non lo so che mi è scelto male. 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 Non lo so che mi è scelto male.